Ah, giocare con sabbia, paletta e secchiello è da mocciosi. Volete che vi faccia vedere qualcosa di veramente fantasticoso? Il telefono è un prolungamento dell'orecchio, la televisione è un prolungamento dell'occhio, l'automobile è un prolungamento delle gambe. Ebbene, signore e signori, tra poco noi avremo un altro prolungamento che condizionerà tutta la nostra vita, ed è l'internet. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.